Il filo ideale lega due rassegne diversissime, da una parte appunto l'europeo di calcio e dall'altra i mondiali antirazzisti che sono appena cominciati a Castelfranco, Emilia, provincia di Modena. Ci sono quasi 200 squadre di calcio, basket, pallavolo, rugby, 5.000 giovani provenienti da tutta Europa per ripetere un messaggio molto chiaro, lo sport come strumento di dialogo, di amicizia contro il razzismo. Noi torniamo domani, arrivederci, ciao insieme. Ciao, domani Simone. Ciao, domani Simone. Ciao. 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 Ciao.